Anche oggi doppia seduta d'allenamento per il Catania nel ritiro di Torre del Grifo. Il tecnico Pino Rigolo e il suo staff stanno man mano entrando nel vivo della valutazione degli uomini a loro disposizione. Da qui all'inizio della stagione ufficiale bisognerà porre le basi per disputare poi una stagione d'avanguardia. Il primo appuntamento ufficiale è previsto per il 7 agosto con la Coppa Italia, quindi il 28, il via al campionato di Lega Pro. Intanto già in occasione delle prime sgambate si è messa in mostra Michele Paolucci, l'ultimo arrivato, importante appuntello per il reparto avanzato. Quindi sicuramente stiamo costruendo una squadra in quella che è la linea societaria e il progetto tecnico. Qui abbiamo tracciato le linee dal mio primo incontro con il direttore della Monaco. Paolucci ha lasciato un ottimo ricordo per la sua esperienza a Catania, per caratteristiche tecniche è un giocatore che va ad inserirsi bene nel tuo modulo tattico. Assolutamente sì, ma noi non dobbiamo vivere di ricordi ma dobbiamo pensare al presente e al futuro e quindi dobbiamo dimenticare perché nel calcio penso che non conta il passato, può contare solo per la storia, ma per i numeri ritengo che conta il presente e il futuro. Quindi è un giocatore importante che arricchisce il nostro parco giocatore. Grazie. Grazie. Grazie.